Dead by April, Milano, 9 settembre 2017 Oggi vi racconterò cosa è stato per me vedere una delle mie bande preferite Certo, sono le cose che direbbero un po' tutti Milano Milano è una splendida città, un altro mondo a parer mio Ok, ora torniamo ai Dead by April Già vedere il loro bus fuori dal locale e sapere che loro erano finalmente lì A pochi passi da me E' stata una sensazione davvero indescrivibile Ok, ok, fermi tutti Vedete questo bagno? Ecco, ci credete che ho beccato Pontus? Sì, esatto, proprio lui Subito dopo aver spento la videocamera esce un tipo dal bagno alto 2 metri Mi giro e... Avrei voluto farvi vedere la mia faccia Hi guys, bellissimo Vedere Jimmy Streaml, vederli a pochi passi da te, parlarci, stringergli la mano E sentire tutte quelle persone che cantavano le canzoni a memoria Wow, cioè è stato surreale Sarà banale o esagerato ma... Questo è ciò che sento E ho voluto condividerlo No, 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 no Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sono piccoli Andate 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 veloci Ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti